Ragazzi, buon pomeriggio e benvenuti in questo nuovo video dal vostro different player. Oggi andiamo a provare a fare la mia prima live, dove andremo a fare un gioco, ed il gioco in questione è Bob Spencer e The Unseals, Drap and Beans. Oggi andremo a fare cazzottoni a go go. Io sono sempre stato un fan di questo. Allora, andiamo a fare nuova partita. Andiamo a selezionare Bob Spencer, perché non si può fare questo tipo di gioco senza il buon vecchio Bob. Ragazzi, mi raccomando, se vi piace il video ricordatevi di iscrivervi per supportarmi. Mi raccomando che è importante. Allora, vediamo un po'. C'è qualcuno che ci vuole fregare i fagioli, ma noi non glielo permetteremo. cazzottoni in bocca. E non mi faccio vedere. Fatemi minare le mani, che mo' li ammazzo a questi. Pazzo, che grosso errore. Ci hanno... ci hanno praticamente rovinato la Cina. dai, fatevi shot. Oh, finalmente! Vai alla grande! Oh, beccati questo! Beccati questo! Oh, beccati questo! Oh, eh! Ah, sei ancora vivo! Ancora vivo! Vai, Barbie! Vai, Barbie! Ragazzi, speriamo che non mi danno il copyright per le musiche, ma non potevo! Non posso derivarmi questa splendida musica! Non posso! Oh, raga, ricordatevi di iscrivervi, eh! Che è importantissimo! au solicitропellenari!" Godda! Godda! Eachem c'è qu'il si è fu con il Fascino c'è qu'il si può vivere poi Questo gioco è meraviglioso, l'avevo visto su Steam, se non erro, e ho detto no, devo acquistarlo per forza, perché io sono cresciuto con questi... Allora vediamo un po', vi prego, non abbiamo niente, stiamo andando a trovare il nostro povero padre malato, credo che dovremmo salvare la donzella, eh sì, perché ci sono questi cattigoni, che vogliono fotterci il carico, e anche i cavalli. Vediamo un po', stanno trasigliando queste donne in leggia, e soprattutto levativi di toro, ho fame! Tu fame? Mira Drugo, mangia te! Mamma mia, parla come un madre rosa! Dobbiamo prendere più o quello più grosso, secondo me, perché è quello che ci darà più fastidio, o meglio, non ci darà fastidio, perché lo sconoccheremo così dalle mie parti. Dolcemente! Dai, fai... Bravissimo, va bene! Va benissimo, andiamo! Ma guardate che cazzo suono, che... Non ti permette... Non ti permette... La paleta, la paleta... La paleta... La paleta... La paleta... Buon italiano! Il fai fuori! Bellissimo! Che cazzo suono! Che cazzo suono! Bellissimo! Guarda che combo! Bellissimo! Guarda che combo! Non, non ho la potevo! Non ho la potevo! Non ho la potevo! Ma ora, io la scatto in testa, io la beccati qui! Beccati qui! Beccati qui! Bellissimo! Bellissimo! Ok, grandissimo! Dai, dai! Non cazzo suono, io mi ti fanno prima! No, non ho la potevo prima! no dai ma che cazzo adesso vi fate arrabbiare no ve lo lancio e ancora più non fai muovere ragazzi questo qua è il primo tentativo di fare una live se c'è qualche imprecisione fatemelo sapere ma abbiate un po' di pazienza perché dalla lato io non ho l'autoschermo per vedere per me non so come sta andando la live voi scrivetelo nei commenti e poi lo vado a rivedere oppure andate a cazzo dove lo volete scrivere scrivetelo ma se non lo fate sapere e soprattutto se vi piace se vi piace l'idea per favore iscrivetevi perché è importantissimo questo lo devo mettere qua così non può salire ok ok vieni il suo grande e adesso io come faccio ecco beh capite ti do un po' di un bocco ah beh con un bambino di te che cazzo ha tu ah beh finalmente ti ho preso con un bambino di te no 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 basta ma ne vedi madonna che cazzo ma il cacciottone il cacciottone alla parte è meraviglioso cioè vorrei usare solo questa cosa bellissimo grazie ragazzi non potete capire quanti ricordi ragazzi che c'è bellissimo quel mese non ce la faccio troppi ricordi bellissimo voglio fare i complimenti alla casa che ha sviluppato questo gioco che tra l'altro è l'italiano che ha fatto un ottimo lavoro veramente e se noi ci vogliamo che sarà e che dovremmo fare qui? non parlare proprio salve amore si che parla si ok e va bene salve amore e quindi noi avremmo a fare e dormi nel cibo ma sei gioco amore ma sei gioco amore a quanti cammetti come quel promolo in realtà dopo aver visto il vostro saluto non ricordo più quale fosse la nottana quella a lei sembra gandita poi fatemi sapere se preferite con la facecam o senza facecam stile old school ok qua mi sa che si mette male e quindi ah beh io si abbiamo risolto proprio un bel cazzottone e siamo a questo io qua ho tutta l'impressione che tra un po' scoprirà una rissa che ti pareva che ti pareva che sia credo se non ho capito male che dovrebbero esserci di richiami a film e i film più famosi di parte intera per ora stiamo giocando qui, infatti non c'hanno c'hanno le piscone questi no? aiaiaiaiaiaiaiai aaaaaaaaaaaaaaaaaa ce n'hanno fregarvi credi per traspare quindi fresca e se dobbiamo disarmare tutto questa gente perfetto, ce l'abbiamo al secondo tentativo il mio nome è nessuno no, meglio mentega fuggite con me e cavalchiamo insieme per sentire ragazzi dovete spolliciare più un po' su questa live scusate se non rispondo ad eventuali messaggi della chat ma io non la vedo devo ancora capire ogni essere a farvi mostrare contemporaneamente i messaggi eventuali quindi abbiate pazienza che è la prima volta che sto facendo una live contro l'altro che io quindi veramente se ci sono delle problematiche fatemelo sapere un tempo fa c'è Teres che ci sta provando senza domani ma noi adesso non abbiamo tempo di amoreggiare dobbiamo menare come se non ci fossero domani tantino a me, a me, a me la birra a me è tra l'altro che mi piace molto no, ma no, ma no, ma no perchè mi obblighi a minare? al revi due ok Posso prendere una sedia? Eh ma perché? Perfetto, grazie. Perfetto, grazie. Perfetto, e questo? E' stato ottimo. Dove una padellata in testa. La padella è fantastico, capito? Ehm... Ehm... Madonna che è morta! Facciamo vedere anche per te! Vai tutti qua! Che c'è una festa? Ah questo è il fratello di Coriglio! Mirai Drug è uguale a me! Oh! Ugualissimo proprio! Non vorrei picchiare a me! E' picchiavolo! Fateli a pezzi! Fateli a pezzi! Oh 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 oh! Guardi sagne! Guardi sagne! Guardi sagne! Slap... Slap bird! Sì! Bisogna slappare! 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 Come se le cifre sono le mani grandissime! Eita! Sono i miei sui carichi! Eita! 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 Oh… che buzza! fools ho! Non crea un trauma cratico! Ciao! Hai chiesto? Non ti ricorda questo? Eh, lo voy a essere come... ...vistia tranzato! dai 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 dire 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 dare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che bello, no? Oh vabbè, dai, saranno le piscine. Ah, non ho mancato, cazzo. No, ci è andata malissimo. Non avevo mancato tutti. Non vi provoci. Ogni tanto, clicco la X, ma non è lì. Oh, ma... Ce ne mancava uno solo, cazzo. Ragazzi, ce la devo fare per forza. Non esiste tutto così. Dai, va. Cazzo, ma io... La clicco la X però. Ragazzi, mi fate arrabbiare. E poi ho perso parecchie energie. No, non va bene. 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 E poi... No, non va bene. No, non va bene. e 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 Sì, dice anche, ragazzi. No, no, bilancio a tutti. Non ti permetti. Perché di questo. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Buon bene. Stai insicchiando a voi. Andaci bene. Ah, e quindi adesso dobbiamo... Non ci sono la dinamica. scontriamoci che i vecchi stanno sparando hai finito? Vabbè, ecco l'isì Qua stanno Qua stai scrivendo che 全部 va parar Sì, è bravo lì, bravissimo Ah, ma te direi un film Cioè, avevo fatto tutto Però stiamo andando bene ragazzuoli Siamo già Al secondo qua Quindi stiamo andando alla grande Raga, mo' ho messo anche da telefonia Sicuramente sentirete doppio Adesso cerco di abbassare Cerco di abbassare l'angelo Perché se no Almeno adesso posso Posso vedere Se qualcuno mi scrive Ragazzi, bisogna arrangiarsi Quindi noi a quanto pare Dobbiamo essere pagati Però non possiamo essere pagati Sì, ma che stanno Fortunato e soffri Ma che casiglia Sì, ma che stanno Attivamente che non mi danno lo strike Con le muscole Ma non le posso Non le posso Non è per il tempo Si sta incazzando Perché non so A farle Ma no Non ce la fai Ah, quindi Dovevo fare a posto Dovevo fare a posto E tu è questo? Vedi di più No, danno a me Sono grosso Danno a me Vedi di più Vedi di più in bo Ok, ce ne sono i benedetti Grazie No, ancora te C'era ancora un po' Oh cacchio Oh cacchio Eh, e ora Dobbiamo ordinare E basta I salti I salti I salti Stanno portando via i salti Oh cacchio La 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 Quina parte Boomerang Tu Ti ha Quese Rese Sì 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 Vali ci sono appena rubati in attesa Senti da mevole dal solo recuperare Perché sono appena rubati? Che fossa! Grazie a tutti. Puglia Puglia Oggi è la mia primissima live, non puoi emozionare, volevo portarvi FIFA 18, il DLC del FIFA World Cup, ma non riesco a capire come trasmettere in streaming la Xbox, ma appena ci riesco ragà mi faccio esplodere il canale, in senso buono secondo me. Seguiamo un po' la storia, vedi praticamente il film era tutta una chiavica in proletone, ci hanno fatto lavorare e non ci hanno manco pagato. Ecco, come siete uomini? Oh mi raccomando, condividete la live, spammate sui non post perché devo arrivare a qui le iscritti. Raga, devo arrivarci? Dai, fatemi questo regalizzo. Quindi praticamente sta dicendo che questo cattivone ha, come dire, assunto tutti, comprese le comparse e noi. Quindi questo cattivone ha fatto tutto il casino. Quindi, mano, ci abbiamo nella ragazza e nei soldi, e non mi fa giù. Grande Peppino! Ora grande, spamma, spamma! Saluto a tutti, nonni, zii, nipoti, pre-nipoti, tutti saluti! A chi devo salutare? Mi dici, mi dici! Salute, nonno, a chi devo fare? Mi dici, nonno, mi dici, nonno, mi dici. Non la stai, nonno, mi dici, nonno, mi dici! Oh, abbiamo completato un altro video, siamo delle velve! birra e salsicce grandissimo e mo mi diverto una di un baggy allora un grande salutone a Pierpaolo Greco da battipaglia scusate se guardate di sotto ma devo guardare la chat se no rischio di fare della gha Pierpaolo ovunque tu sia un grande salutone da parte mia e ho fatto anche la rima mi raccomando venite a trovarvi se mi fa piacere intanto cosa vorremmo fare penso menare come al solito non faccio male salve oggi solo i piloti possono entrare e noi siamo qui allora ci vogliono le macchine dove le andiamo a prendere le macchine una potrebbe essere la di un baggy che abbiamo visto di là e va dove lo mettiamo sul tecuccio e quando mai dovevi risolvere una cosa ma non potremmo andare a mangiare birra e salsicce che mi sta venendo fame nel frattempo però potremmo metterci ah sono i piloti di tango questi già mi stanno sulle palle io questi qua ci do un punto in bocca dipende da che stai pensando madonna come li stanno melando male come li stanno melando male quindi abbiamo una macchina sotto e quindi dobbiamo metterci ce lo mettiamo a casa no vorrei forse dire che sono un bagno eh beh se lo ricordo ciao cartal bienvenido amico è un piacere parlarvi dal video vi abbraccerai tutti quanti quanto siete belli braccio di ferro no io propongo birra e salsicce e dov'è? dove andiamo a fare birra e salsicce? no vabbè ma che oh cazzo ah ma quindi devi seguire l'ambaladano qua ma non le quindi le ho sbagliate tutte quindi quando è che arrivano là ti devo e dirlo prima di morta no vabbè e dai non vale bastate cazzo mi viene l'ambaladano qua dai no vabbè ahhh merda ma sono una segan cazzo meno di 1 kg di cazzo meno male che lui è così ma vanno velocissimi bello ragazzi ho un bordello ho un bordello cazzo 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 vaffanculo dai ma qua c'è via questa cittina vaffanculo dai ma che cazzo oh questo mini giochino è una chiazza vaffanculo non ho mancato e che cazzo e che cazzo meno male che sono un pochino mi sto rincoglionendo ma che cazzo ti stanno incendendo noi mi sto rincoglionendo mi sto rincoglionendo mi sto rincoglionendo che ho vinto teres vinto teres 38 ce no ragazzi e perchè ha vinto teres ma affanculo l'ho bevuta e mangiata se non ci fosse un domani, che cazzo. Sto minigiochino è bastardo, di mortacci su. E poi, c'è, era più oltre il mio, perché ha vinto a Terence, ma che al contrario che cazzo. Io mi imbroglio con questi giochini, ragazzi. Vabbè, saltiamo, tanto che questa parte mi viene già fatta. Speriamo di farci. Ma tu guarda se mi devo fermare su un giochino di merda? Eh, non è niente di che. Sì, vabbè, ok. Ce la giochiamo a vivo e salsiccia. Vabbè, 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 vabbè. Io non avevo capito il funzionamento. E che cazzo. Cioè, datemi il tempo di capire cosa funziona. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, vabbè. Grazie a tutti 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 Un saluto e un saluto e un ringrazio